Buonasera, mi trovo qui a Chicago per presentare il nuovo E-Liquid, o come lo chiamano qui, Juice, di DKS E-Liquid. L'E-Liquid in questione si chiama Sparkling ed è un E-Liquid molto particolare, in realtà non c'è posto migliore per presentarlo. All'olfatto Sparkling è fruttato, citrico, nello specifico sa quasi di limone, però ricorda il limone, in realtà è più dolce e più fresco. Nell'inalazione si ha una sensazione fresca. Che sollettica quasi il palato. Insomma, mostra il suo carattere fin da subito. Nell'esalazione sale la sensazione citrica, che pian piano vira da un sapore leggermente aspro ad un sentore più dolce. Sapore più dolce che si presenta completamente verso la fine dell'esalazione. Lascia un retrogusto dolce e citrico, quasi dissetante, piacevolmente persistente. In generale sollettica le papille gustative, dando la sensazione proprio del frizzante. Ha un gusto dolce, estivo, quasi solare, che si può sicuramente ricondurre all'alimenta. Che sotto forma di vapore si trasforma per regalare la sensazione di una bevanda molto fresca e molto famosa. Che sotto forma di vapore. Grazie a tutti.